e ciao a tutti amici questo video è una piccola spiegazione per una cosa che è stata cambiata nei programmi magic aggiornati in pratica sul pannello iniziale quando lanciate il programma quello che vi crea un nuovo progetto o carica il file oppure quando fate il nuovo per creare un nuovo progetto questa cartella del project folder è disattivata come vedete non si può attivare l'amico bruno mi ha segnalato questa cosa perché lui era abituato a cliccare qui e inserire un nome e invece dice non riesco più a farlo questa cosa ha generato in me anche un po' una confusione perché come tutte le cose che si danno per scontato io non ho mai utilizzato questo perché salvavo il file internamente infatti il ragionamento è che questa cartella qui non serve per salvare il file ma è una cartella che viene generata solo nel caso noi decidessimo di copiare i media per avere una cartella di backup dove all'interno di questa cartella vengono salvati tutti i file i progetti eccetera che noi utilizziamo per il montaggio prima di farvi vedere voglio farvi vedere come effettivamente nelle vecchie versioni io adesso vado a usare video deluxe premium che non ho aggiornato se io vado a far new vedete effettivamente che questa cartella non era bloccata cartella di progetto può confonderci d'idea di scrivere un nome del progetto e che questo venga inserito in questa cartella perché effettivamente se io vado a segnare un nome nel progetto vedete che immediatamente viene aggiornato qui in realtà se premo crea progetto in questa cartella non viene assolutamente creato un progetto che nemmeno una cartella chiamata mio progetto questa directory questa cartella viene creata solo nel momento che io vado a copiare a dire sì al programma copia tutti i miei media in questa cartella torniamo a video pro x che ha aggiornato per essere preciso devo dire che questa cosa è della cartella bloccata la trovate in video deluxe la versione 19.0.1.18 e in video pro x dalla versione 17.0.2.41 ovviamente questo è il numero dell'upgrade vedete che è disattivata come vado a cliccare copia media to project folder cioè copia tutti i miei clip eccetera su questo cassetto si attiva effettivamente la directory questo può essere anche un modo per attivarla e poterla modificare come vedete ma questo non serve niente perché se poi disattivate questa resterà modificata vi faccio vedere xxx e viene xxx levo resta xxx ma come faccio che la progetto questa cartella non viene generata perché è inutile non serve perché io ho detto al computer di non creare nessun file e cosa serve tutto questo discorso qui serve perché se noi andiamo a inserire la nostra timeline delle clip e e le musiche tutto quanto noi possiamo andarle a prendere da qualsiasi risorsa senza fare come in altri programmi in cui le dobbiamo importare in altri programmi andiamo a importare il materiale e questo può essere copiato fisicamente in un'altra area dell'hard disk adesso anche altri mettono solo link invece in nei programmi magics questo avviene come norma cioè questi questi clip in realtà sono solo un link di riferimento al file cosa succede tante volte non ci si pensa ho preso questa immagine dalla cartella immagini vado a cancellare la cartella immagini e io in montaggio non mi troverò più questo file oppure cosa ancora più banale che può succedere vado a tingere da un hard disk esterno prendendo delle clip video poi vado a staccare l'hard disk esterno e io queste risorse non le troverò più per questo è stata creata appunto questa possibilità quindi cliccherò dirò a questo punto potrò scegliere dove vado a salvare questa cartella questo percorso è un percorso di default che posso andare anche a decidere premendo y appare il program setting oppure andate su selezione e cercate dal menu program setting vedete che questa directory è elencata qui per cui se volete che programma salvi sempre queste risorse in un hard disk apposito potete fare altro che scegliere da qua e questa è una cosa diciamo di default andiamo a provare a impostarla da qua del progetto dico sì creami pure questa cosa allora in questo momento quando confermo da adesso in poi qualsiasi cosa che andrò a tirare in timeline mi verrà chiesto di copiarla in quella cartella ecco forse è un po di confusione ma spero di essermi spiegato che è stata disattivata molto probabilmente perché se io la tolgo non serve non viene creata anzi poteva forse indurre io pensiero sbagliato che quando fatto assegno un nome qua in alto e faccio crea progetto realmente il programma stesse creando un progetto in realtà adesso vado a cancellare questo io quando arrivo qua non ho creato nessun progetto tant'è che quando vado a iniziare il mio progetto se vado a fare salva progetto quindi doveva andare sopra un progetto esistente se faccio salva progetto non ho detto salva progetto con nome lui mi chiede il nome proprio perché in realtà non è stato salvato da nessuna parte questo progetto quindi attenzione quando create il progetto e assegnate il nome inizialmente salvate subito io spero di non avervi fatto confusione quindi ripeto su nuovo file tutta la parte sottostante è inerente solamente al discorso di creare una cartella dove sono presenti tutte le vostre clip in maniera che non possiate erroneamente cancellare un file dall'hard disk dove si trova e non ritrovarlo più in progetto io non so se consigliarlo o no perché ovviamente vi ritroverete con del materiale doppio in hard disk cioè qualsiasi clip utilizzerete verrà copiata interamente in quest'altra area bene spero di aver chiarito questa cosa che aveva tratto un po in inganno anche me perché secondo me come al solito bastava una semplice spiegazione oppure una divisione dalla creazione del progetto far capire che sono due zone separate una le caratteristiche del progetto che andiamo ad aprire e una quella che può essere per il salvataggio eccetera io vi ringrazio di avermi seguito e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti